Sono arrivati nella mattinata di oggi a Bari i primi 140 dei 1800 materassi donati dalla MSC Crociera. A riceverli sulla banchina del porto di Bari dove è attraccata la nave e orchestra il vice sindaco Vincenzo Brandi e il presidente e i volontari dell'associazione Incontra. I materassi sono stati poi trasportati presso la Fiera del Levante con l'ausilio di mezzi messi a disposizione dalla Ladisa Ristorazioni. Si tratta, informa una nota, di un'orchestra di gesti solidali. MSC Crociere, associazione di volontariato Incontra, Ladisa Ristorazioni, l'amministrazione della città metropolitana di Bari e la Fiera del Levante in azione per il recupero di materassi e cuscini in favore dei più bisognosi.